buonasera a tutti sono lorenzo lorenzo loretty e insieme al mio collega e amico filippo t casanova prego filippo buonasera a tutti si ci sono ci sono mi faccio vedere che mi sto ancora mettendo la crema per il viso ma che bella storia ecco iniziamo subito benissimo tutto tutto questo comunque vi dicevo benvenuti sul sul canale youtube per questa live che facciamo una volta all'anno un po forzati perché noi non amiamo sempre apparire perciò non siamo interessati a fare live su live continuo però una volta l'anno ci sta una chiacchierata con voi anche a salutarvi a leggere i vostri commenti le vostre domande e anche a parlare soprattutto dei progetti futuri e di quello che sarà il futuro del canale perché ogni anno è un è un nuovo inizio perché anche quest'anno abbiamo terminato un'opera visto che l'altro anno abbiamo terminato dopo tre anni e mezzo it quest'anno siamo riusciti a terminare shining tra mille diecimila difficoltà e alla fine abbiamo deciso di fare questa live per parlarne con voi ho già visto che siete un buon numero ecco a voi filippo t casanova eccolo qua che fai naturalmente mi viene benissimo comunque prego filippo saluta anche tu perché mi sembra giusto ciao a tutti buonasera benvenuti allora se lorenzo dovesse lasciarci a metà dello show dovremmo chiudere la diretta perché purtroppo già anche nelle prove dava qualche piccolo segno di cedivento ma del regno soprattutto sta lavorando tantissimo ci siamo trovati in quest'anno dover lavorare a distanza cosa che a me lorenzo non era mai successa quindi è stata ma a parte tutto benvenuti ed è sempre bello poter passare una serata per potersi bere una birretta insieme nascondiamo la marca non sia mai che facciamo product placement magari magari dico magari quindi vi auguro di passare una bella ora con noi di mandare qualche altra domanda stanno arrivando già diverse così fate voi come al solito la la conversazione noi partiamo sempre con i buoni propositi di dire delle belle cose poi alla fine scadiamo sempre in qualcosa che compare nei commenti partiamo sempre con parlando no perché adesso questo è un problema no perché dobbiamo fare questo questo e poi va tutto a come al solito la diretta fai limitazione del meeting pre pre diretta com'è allora filippo dobbiamo fare questa cosa qui dobbiamo parlare esattamente di abc la risata di joker questa mi servirebbe per alfredo pagnotta questa risata a proposito di alfredo pagnotta ricordiamo sempre che il nostro progetto legato agli autori emergenti è sempre in ballo e per il duemila ventidue forse forse ci saranno delle grosse novità con con filippo ne abbiamo parlato così superficialmente però forse nel duemila ventidue ci potrebbe essere anche qualche altra possibilità in più per gli autori emergenti ossia non solo pubblicare sul nostro canale ma pubblicare anche su altre piattaforme però questa è una situazione in divenire e vi terremo aggiornati e ricordiamo sempre che il canale si basa soprattutto sugli autori emergenti questo è un canale dedicato a loro nel senso che si steven king e tutti i racconti qualche opera anche però noi il nostro progetto è sicuramente legato agli autori emergenti anche perché conoscendo il mondo della dell'editoria anche faccio solo audio libri non è che pubblico libri o nintendo di libri però conoscendo quel tipo di mondo so quanto è difficile per un autore emergere o magari farsi pubblicare anche da una piccola casa editrice perciò il nostro è un trampolino di lancio anche per aumentare la visibilità con facebook e instagram youtube e magari nel 2022 magari ci sono altre possibilità ma questo poi lo sapremo in futuro ancora dobbiamo attendere risposte io direi di iniziare a leggere qualche commento così iniziamo a salutare pure qualcuno no mi sembra giusto non trovi filippo trovo che mi ero mutato un attimo perché stavo facendo un po di rumore stavo controllando fosse partita su facebook la la diretta così c'è anche il link perché ricordatevi che lui è la parte social ovviamente quello sese andiamo bene come dire a me poi alla fine del mondo comunque iniziamo da dal primo che ci ha visto che daniele bertorello io sono da solo adesso siete una sessantina benvenuto daniele benvenuto damian v buonasera daniele anche a te no buonasera daniele lo diceva daniele bertorello buonasera damian poi abbiamo frank staiga salve frank da dove ci scrivi michela mammetti che ci scrive sempre benvenuta michele bentrovata ci siamo buonasera a tutti vediamo che persone cortesi che ci sono eh sul nostro canale saluta a tutti a differenza nostra sono delle persone carine cortesi educate mico b buonasera frank staiger l'argomento l'argomento ancora non ce l'abbiamo tanto non c'è una un palinsesto non c'è una scaletta parliamo così a cacchio di cane come si dice prego continua tu dai facciamo un po allora l'argomento come abbiamo già detto di solito per chi segue le nostre diretti in questi questi anni cominciano a essere tanti perché cominciano a essere quattro quattro è la quarta diretta la quarta no è in verità il primo anno mi ha fatto due addirittura tipo ah è vero come si si eravano lanciati nel mondo di youtube e facciamo gli youtuber giovani poi ma che cazzo ciao a tutti ricordatevi di mettere un commento qui sotto e non qui sopra come diceva un grande maestro di youtube italia della prima epoca allora ci ha perso il segno mary jacomino buonasera a tutti ciao mary buonasera anche a te poi ci appunto si riscrive daniele ciao ancora anche da parte mia ci saluta benvenuto ciao carissimo tommaso scrive sempre commenta sempre allora poi andrea andreani ci scrive ma l'audiolibri di it questo questo è ne parleremo ne parleremo sicuramente e michela e intuisce giustamente c'è aria di titolo nuovo però vorrei chiedere anche un pochino di pietà per quest'uomo che legge ore e ore e ore di libri edita ascri ascolta poi la sua stessa voce tagliando tutte le mani prendere il farmaco per il mal di mare e frank frank steiger e e mai con tre punti con quattro puntine addirittura tommaso cofanetto aspetta ciao cofanetto sto cercando di mettere insieme le le cose ok ci arrivo dopo penso di aver capito tommaso cosa stai cercando di dirci crienzo buonasera un altro frequentatore del nostro pub che apre una volta all'anno quello beve io tossisco proprio l'immagine della salute esatto 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 e ci saluta anche daniel buonasera daniel e lina e passo la parola a lorenzo perché c'è un ciao lore che vedo ciao mico b mico b ciao claudio phillips buonasera jules winfield jules winfield giustamente è quello di palpiccio van de son luis buonasera maria comino buonasera a te lina did dead inside a madonna che nick grazie un po come quando è un po come quando io la mattina faccio la solita trita ritrita battuta del caffè come lo prende amaro sia amaro come la vita allora dai mamma mia proprio come iniziare con mi fermo perché ancora non siamo a metà live se no già te l'avevo detta una parolaccia poi daniele bertorello di nuovo complimenti frank steiger grazie 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 fanno sempre molto bene all'anima e al cuore hollona combina guai sbattimento buonasera a tutti margherita borine cristina finotti buonasera che bello rivedervi anzi che bello rileggervi daniele di nuovo pollice fra el tommaso grande grazie tommaso e il grande alfredo pagnotta di cui parlavamo prima alfredo pagnotta che è uno degli autori emergenti e vi invito ad ascoltare il senso che è veramente un bellissimo racconto e in futuro ne arriverà un altro di alfredo pagnotta che credo che sia veramente un capolavoro non lo dico perché c'è alfredo pagnotta qua che ci segue ma veramente lo sto finendo di registrare adesso è una straficata è proprio un racconto pulp capito alla paul fiction questi personaggi tipo gioco era un po punk che dicono parola bellissima l'ho trovata lo sto trovando bellissimo so come finisce ma lo devo finire registrare grandissimo alfredo poi fata pasticcio ciao grandissimi ciao a te andrea andreani ma l'audio dritto tornerà disponibile ne parliamo ok ne parleremo sicuramente perché riceviamo circa quante 6 7 mail al giorno che ci chiedono se queste cose davanti facebook youtube instagram e anche con mail prego continua emanuele chiesa grandissimo mi piace sempre quelli con cina col bambino con le orecchie svelte si gigantesche quello non stanno nell'avatar no lorenzo no ti prego devo lavorare c'è solo con la voce perciò saluta ci saluta silvia ciao ragazzi saluta anche dario melloni buonasera ciao dario ciao danilo siete bravissimi grazie 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 come come si dice troppo buoni troppo buoni troppo gentili eric garcia obore garcia te che sei bravo con con le lingue lorenzo come l'avresti come l'avresti detto oddio me lo so perso aspetta dove sta come è scritto come è scritto dimmelo con la c vabbè dai e garcia ovviamente garcia eric garcia 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 domaso ti intima di preservare la voce e preservare fare le cosacce con la tua voce no 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 a posto era un esercizio esatto giustamente poi digital nomad dice l'eccellenza assoluta nel settore audio la madonna è la madonna un caffè pagato a digital nomad assolutamente via ma anche c'è concordato anche un pochino di più per questo commento diciamo ah sì durante la diretta io devo fare il bonifico come diceva quell'altro youtuber molto famoso la birretta dell'amicizia la birretta dell'amicizia per cliente dov'è la telecamera qua ok oh si è vista eia eia si è vista la marca hai capito che prendi i sordi da like news a lui hai capito non dice niente poi abbiamo saverio rossi black mamba sera buonasera e benvenuto digital nomad io direi che iniziamo con le domande interessanti qual è la domanda interessante che c'è adesso ma che fine ha fatto l'audiolibro di it che fine ha fatto dove sta l'audiolibro di it ragazzi allora mettiamo in chiaro subito una cosa l'audiolibro di it l'abbiamo tolto per sicurezza allora it abbiamo visto dura 52 ore che è un signor audiolibro forse uno dei di quelli più lunghi che si troverebbero su youtube e nel giro di tre anni e mezzo visto che è stato diviso in 35 parti ha totalizzato circa un milione e quattrocento mila visualizzazioni sommando tutte le parti ovviamente eh il tempo d'ascolto adesso è arrivato a circa 30 anni vuol dire che la gente l'ha ascoltato per 30 anni ma credo che sia anche di più perché non vedo più le statistiche da un po questo ha fatto sì che ci siamo posti una domanda ma è meglio lo lasciamo ma sì lasciamolo poi è successo che purtroppo un altro canale di audiolibri la locanda da tormenta di andrea che salutiamo quando arriverà che consiglio sempre perché fa sempre ottimi prodotti ha ricevuto uno strike del copyright per il signore degli anelli e la durata era pure quella intorno alle 40 45 ore siamo sempre là al che abbiamo capito che più l'audiolibro ha visibilità e più si rischia lo strike del del copyright questo perché perché noi non deteniamo i diritti di it ok non ce li abbiamo i diritti perciò non monetizzando il video non non avremmo non avremmo problemi però non si sa mai noi infatti adesso ancora adesso con shining in realtà alcuni mi chiedono ma togli it e lasci shining che senso ha shining è 19 ore e anche con shining ce la stiamo rischiando abbastanza nel senso che shining è un signor titolo perciò abbiamo lasciato le prime tre parti che sono presenti su sui cataloghi come anteprima del libro su ips troverete diciamo le prime tre parti fino a l'uccisione di adrian mellons e non ricordo male e il resto l'abbiamo dovuto mettere privato per forza per ora è così e sinceramente in futuro continueremo con questa filosofia so che è fastidioso perché è fastidioso però però per ora dobbiamo fare per forza così per preservare almeno il canale e tutto quello che che ne deriva per shining vedremo in futuro pure questo ve lo dico non sappiamo esattamente perché vogliamo un po studiarci la situazione io non vorrei toglierlo almeno shining perché ci sono troppo troppo affezionato poi ci abbiamo lavorato tantissimo perché nonostante sia 19 ore è stato un signor lavoro perciò per it ora lasceremo le tre parti e in futuro si vedrà però per ora non lo ripubblichiamo sicuro al cento per cento perciò potete chiedercelo tutto quanto noi non lo possiamo pubblicare prego volevo giusto dire questo se vuoi aggiungere qualcosa solamente sempre no è con questa nota di tristezza però purtroppo anche perché è stato per chi ha seguito la pubblicazione mi hai mi hai attaccato alla tosse tra l'altro il bacio in bocca con lingue sono antipatici effettivamente soprattutto quando lasciano queste reliquie fastidiosissime per quanto sia per quanto sia doloroso abbiamo pensato che essendo comunque il canale cresciuto abbastanza perché comunque arrivato a 18 mila e quattrocento ad oggi sono 17 8 17 8 ho invertito le cifre vabbè 17 8 quindi quasi 18 mila e sono tantissimi per un canale che fa un autore solo è un autore solo però noi non facciamo effettivamente un autore solo ma abbiamo avuto negli anni la possibilità di produrre tutta una serie di audiolibri molto molto più di nicchia molto particolari però alcuni di quali sono veramente veramente molto belli con alcune di queste persone siamo anche rimasti personalmente in rapporti di amicizia come armando marchetti che saluto di cose cose dell'altro cinema e angelo parisi ma anche alfredo con tantissimi autori e autrici che sicuramente stasera passeranno a farci un saluto detto questo so che sembra brutto ma chi c'era durante il periodo della pubblicazione ha potuto ascoltare in diretta contemporanea tutte tutte le puntate ma poi è successo questo problema è con gli strike non si scherza no ti radono al suolo completamente il canale quindi nonostante non ci siano pubblicità su nessun video questo rischio era era troppo grande era assolutamente troppo grande senza considerare la quantità di di freebooter che ripubblicava pure quello assolutamente anche perché adesso youtube se non se non mi sbaglio se ci sono due contenuti uguali in realtà prima blocca tutte e due i canali e poi verifica chi ha pubblicato prima però intanto il rischio che un canale clone di prenda tutti i video come è successo a noi più di una volta jim e morris si chiamava quello là che ci copiava tutti i video all'inizio e poi hanno questi nomi molto strani nel senso che non capisci se sono bot se sono persone o se o se è altro detto questo è stato anche quello abbastanza spiacevole anzi colgo l'occasione per ringraziare chi di voi ci ha sempre segnalato super tempestivamente chi erano chi non erano detto questo siamo un po troppo seri stasera un po troppo no all'inizio stai tranquillo fa troppe poche va bene va bene allora di gina no male inarrivabili grazie astro duran board così posso farvi i complimenti dal vivo grazie caro grazie grazie astro duran board poi vado avanti io vai avanti tu vai 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 tu vai tu vai tu allora l'ale l'ale sarà com'è come l'ale questi giochi di parole mi incuriosiscono sempre comunque l'ale ci saluta con un ciao con quattro buonasera anche a te e anche da lorenzo che si è defilato completamente in questo momento immagino per fare cosacce alle mie spalle lo so che sei lì lo so che sei lì valentino ci chiede buonasera ragazzi come state vivi sopravviviamo respiriamo un po di tosse però tutto a posto diciamo che la faccia la faccia dice tutto questa sera poi luca ci fa una domanda che forse non c'era mai stata fatta di dove siamo originari allora per me la risposta è facilissima anzi la faccia questa è la mia città natale e io rinascerò cervia primavera esatto esatto ma invece sono di bolzano vivo a bolzano parlo bolzanese lorenzo schulz infatti si chiama sono di roma proprio di roma originario di volterra provincia di visa però di roma perciò vai pure vai continua continua che mi piace poi ma marco ci augura buonasera daniele ride per una probabile puttanata che abbiamo appena detto e lorenzo tu gnolo tuo persona tuo omonimo persona con lo stesso nome molto curioso non pensavo esistesse qualcun altro che si chiama lorenzo come te sinceramente ci dice le shining è stato fanta fanno tessi lorenzo con la l minuscola però è diverso che cosa cazzo stai dicendo ti sei messo lorenzo con la l ci dice che shining è stato fantastico ti ringraziamo grazie 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 poi black mamba vorrebbe l'audiolibro dell'ombra dello scorpione questa è un po' una domanda ricorrente no una richiesta ricorrente anzi beh l'ombra dello scorpione insieme a it è il non plus ultra diciamo sono i due capisaldi di steven king l'ombra dello scorpione abbiamo fatto due calcoli una volta se non sbaglio filippo si all'incirca cinquantanove ore se è più ancora più di sette ore cioè è una cosa e poi sinceramente è una nebbia praticamente è un it e una nebbia esattamente e ci sono delle parti dell'ombra dello scorpione poi lo sappiamo perché tutti tutti noi che stiamo qua compresi voi che ci ascoltate l'avete letto ci sono delle parti che veramente io me le ricordo come un incubo proprio una pesantezza più di it perché anche it io lo dico sempre it è un capolavoro bellissimo mi sono divertito tantissimo a farlo uno sbattimento che non ve lo immaginate però ci stanno delle parti che veramente è una cosa di una pesantezza che non che la metà basta prego filippo continui guarda stavo cercando un video da linkare perché giustamente alfredo stava dicendo ascoltate il senso e volevo linkarlo un attimo se puoi andare avanti tu un attimo mentre faccio sta cosa perché essendo uomo due cose in una volta non posso farle proprio dove è arrivato scusa che era arrivato all'ombra dello scorpione all'ombra dello scorpione io mi è saltato tutto qua aspetta ecco qua trovato tina sanitate buonasera che bello rivedervi insieme ciao tina alfredo pagnotta grazie della pubblicità ascoltate il senso ecco arriva il link tosto arriva il link del senso alfredo pagnotta è l'autore del senso alessio campinotti un saluto a te benvenuto salvatore un ali buonasera da te daniela nuti che ci scrive sempre e ciao daniela buonasera buonasera ogni tanto mi salta qua non capisco qua è possibile che it ritorni disponibile ne abbiamo parlato prima per ora no la risposta è proprio no per problemi di strike di copyright poi eric garzia saluti dalla bellissima tijuana ma che sta in messo la peppa addirittura in messo dal messico grandissima ricartia e allora benvenuto vedete ormai il mondo che picco che è veramente piccolo picco andrea ci consiglia carri carri però c'ha il personaggio personale principale che è femminile perciò come miseri a me piacerebbe però sarebbe meglio parlare sempre così tutto l'audiolibro ma non credo in miseri non credo che parla così guarda sinceramente comunque non mi sembra di cristina finotti non mi sembra vero poter vedere al video chi mi accompagna tutte le notti la madonna addirittura lorenzo io faccio come io faccio come il pianista nel film ice white shot che sta bendato mentre loro fanno beh chi ha visto cosa sa di cosa sto parlando dai dai dillo che cosa stai dicendo cosa cazzo stai dicendo willy no è un piacere molti seguono gli audiolibri diciamo prima andare a dormire anche se diciamo noi non facciamo proprio un genere così che che sia molto tranquillo però potremmo fare favole della buonanotte potremmo fare le favole della buonanotte scusa sì narrate da hit non sarebbe male da penny wise e imparare il twister ha cagato dal buco del culo scrienzo se mai pubblicherò qualcosa sarò il primo a scocciarvi ma certo noi siamo qua quando vuoi gigia ruscali ruscali perdona la pronuncia buonasera lorenzo della mia voce preferita aspetto nuovi audiolibri grazie però è tutto maiuscolo quindi devi devi dirlo un pochino più buonasera lorenzo sei la mia voce preferita grazie grazie mille troppo gentile noi su youtube ci stanno anche altri narratori io dico sempre c'è anche beer locanda poi altri ora non mi vengono proprio in mente però veramente tutti che sono bravissimi e dedicano tantissimo tempo perciò andate a seguirli perché sono siamo tutti una comunità abbastanza unita un abbraccione da federico un abbraccione a te una domanda avete ricevuto proposte di lavoro interessanti da radio o per audiolibri tipo audible saverio io mi ci pago le bollette con audible perciò sì però su audible c'è anche un nostro audiolibro che abbiamo fatto non me la ricordo mai come si chiama la società come si chiama mannaggia vabbè troverà dell'audiolibro del piccolo principe o da me figura di merda narrato da me volume audio books volume audio books bravissimo ci siamo salvati come carasperdico adesso ve lo cerco ve lo linko esattamente e su audible trovate un piccolo principe narrato da me e musicato da filippo veramente bellissimo sinceramente poi valentina simona bufano valentina anche lei un'autrice emergente e vi consiglio andare a spulciarvi nella playlist che abbiamo su youtube grazie valentina per il buonasera e valentina ovviamente un'ottima nutrice una bella penna e tra pure delle idee abbastanza particolari ha pubblicato un estratto che che vi consiglio andare a sentire perché incuriosisce molto cristina finotti questi emergenti sono una scoperta fantastica brava cristina brava brava cristina seguite cristina finotti perché giustamente gli autori emergenti ci stanno dando tantissime soddisfazioni mi dai il buonasera a tutti a te lina dead inside ciao ci vediamo prossimamente ciao ok mari angela casano ha ritirato il messaggio perché mari angela casano è un'altra autrice emergente perciò anche lei la madre il racconto della madre veramente toccante e la cosa bella e tu converrai con me è che negli autori emergenti noi non è che privilegiamo soltanto l'horror ma tutti gli aspetti della vita quotidiana perciò tutte le storie chi ha qualsiasi racconto di qualsiasi argomento non si faccia problemi se vuole fare l'audolibro con noi prego filippo tutto tuo allora intanto abbiamo diciamo sfiorato un proiettile un po come neo e matrix perché la pam ci dice presente marito e figli a letto per fortuna perché se dovevo sentire quello che ecco quello che vanno a dire pronta a passare la serata insieme a voi benvenuta 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 ci saluta anche daniele buonasera e elisa ci c'è una bellissima cosa congratulazioni per tutto quello che fate state allietando le mie adeggenze in ospedale ti auguriamo di cuore che si risolva tutto al più presto che sia solo una cosa passeggera ci manda due cuore tra l'altro uno rosso e uno viola grazie grazie in bocca al lupo per tutto eh qualsiasi cosa sia allora oh salvatore finalmente qualcuno che ci fa una domanda da nerd dove possiamo esprimere e parlare un po da nerd quale cuffie preferite per registrare allora vai allora facciamo un attimo di product placement allora facciamo partire qualche consiglio per gli acquisti no allora parte tutto io utilizzo due paia di di cuffie un paio chiuse per registrare col quale faccio praticamente tutto che sono le audio tecnica sono queste sono un po marcia perché comunque le uso tutti i giorni sono le atx qualcos'altro at 50x mi sembra comunque sono sono un modello super riconoscibile sono delle cuffie molto affidabili che reggono un sacco il volume sono un pelo chiare io le uso anche per fare musica di altro tipo quindi non solo non solo le colonne sonore quindi naturalmente non le consiglierei per fare il mixaggio invece per fare il mixaggio anche seppur non non si possa fare il mixaggio in cuffie ma io abitando in un appartamento molto piccolo a milano non posso fare non posso certamente utilizzare i monitor che ho nel mio studio a casa utilizzo un paio di cuffie slovene che si chiamano ollo che sono delle cuffie aperte molto carine molto di nicchia e assolutamente un prodotto super interessante quindi salvatore tele consiglio tutte e due naturalmente considerando che la cuffia chiusa per registrare l'altra per l'ascolto e per il mixaggio perché ti dà anche idea dei quali siano un pochino più vicino al vero il rapporto tra i volumi e il rapporto tra le frequenze specialmente abbinate a un simulatore di monitor come ne esistono in commercio alcuni molto efficaci ma io uso delle philips h2 che sono delle cuffie normali che hanno dei bassi abbastanza pronunciati avendo la voce bassa ovviamente ho bisogno di una cuffia che mi fa sentire un po più i bassi però più che altro si lavora in fase di editing alla fine nel senso uno registra nonostante abbia così un beh ringer compressione si registra poi in fase di editing bisogna rivedere tutti i volumi perciò importante più che l'ascolto nel momento in cui si registra è più importante la fase di editing perciò la ti consiglio un bel paio di cuffie da spenderci un po poi dipende sempre da che strumentazione hai ovviamente dalla scheda audio e di tutto il resto poi devono essere comode le cuffie al di là di tutto perché per esempio lorenzo che fa molto 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 editing tutti i giorni devono essere delle cuffie che non devi sentire in testa quindi devono essere sicuramente leggerissime perché sennò la pelata qua adattabili quindi devono essere e anche con un cavo abbastanza abbastanza lungo perché comunque non devi poterti diciamo imbrigliare so che sembrano particolari stupidi ma sono quelli che fanno la differenza tant'è che ci registra da dieci anni poi abbiamo lorenzo berni ti salutiamo lorenzo benvenuto gaudia carfi ciao è un piacere un piacere per noi averti con noi grandissimo buonasera canale spettacolare grazie caro gentilissimo betto bello frank steiger ieri sera ho iniziato a leggere la chiamata dei tre e la voce nella mia testa è quella di lorenzo dell'ultimo cavaliere con quel ritmo madonna una lentezza finisci staltranno l'uomo in nero camminava nel deserto e l'uomo che si vabbè manco voi ricordi benissimo avevo dato un'inflessione un po' troppo lenta risentendolo avevi dato un leggero ritmo così ieri sera massimo mazzone bravissimi entrambi cristiano gennari che è un mio carissimo amico ciao lollino ecco lollino mi chiamamente bastardo davanti a tutti tra l'altro eh bello ciao caro un abbraccione anche a katia grandissimi marco alle ori due domande se è possibile creare una playlist per ascoltare it se potete terminare la lettura di pet cemetery che domanda ragazzi beh beh che domanda che domanda li possiamo rispondere tra tra un po' ricordati marco alle ori eh hai fatto due una domanda ok già abbiamo risposto non possiamo ripubblicarla l'altra ne parliamo pollon sbattimento vi seguo in esclusiva stasera ci sono millanta live di lettori di libri in contemporanea mazza ma come no lo sai perché perché non c'è la champions league lo vuoi capire eh vabbè la settimana poi ci saranno le live perché sennò la gente di tele champion giustamente cosa ne so io cosa ne so io vincenzo lecciso ciao quando iniziate con doctor sleep però eh non è detto che lo iniziamo non è sicuro me manco mi piace tanto il libro no vabbè sono commosso stefano severi no grandissimo stefano severi è un militare e adesso è in missione in libano perciò un abbraccio stefano un abbraccio un bacione mi raccomando sta bene caro pure lui è un autore emergente e in futuro faremo una playlist direttamente per lui perché ne ha tantissimi perciò è diventato quasi un autore riconosciuto sul canale e i suoi racconti hanno tutti una storia conseguenziale quasi nel senso i personaggi si incastrano tra di loro creando un micro universo ed è una persona eccezionale una gentilezza un abbraccione veramente stefano stammi benissimo dal libano fa attenzione eh mi raccomando coprete la sera che fa freddo là perché non avete visto le mie perché non avete visto le mie di orecchie questo è emanuele con l'avatar e il bambino lorenzo scusa scusa sta comparendo noi siamo un po vecchi e boomer da sto punto di vista hai visto che sta comparendo il commento delle cuffie per registrare perché nella chat ma sì 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 ancora possiamo possiamo in questo a ecco seleziona che figata bellissima la tecnologia hai visto no è scusa non sapevo come leggerli diversi li stavo cercando nella chat e non li trovo più ok questo è Crianzo che ci chiede ascoltando le vostre produzioni avendo precedentemente letto il libro resta sempre in linea con la vostra interpretazione vi torno sempre a riascoltare qualcosa grazie immagino i racconti noi abbiamo iniziato con i racconti che a cui io sono molto molto affezionato perché a volte ritornano secondo me il libro migliore di steven king e poi è stato il mio primo libro che ho letto di steven king avevo 14 anni davide vicensi ciao ragazzi giul winfield ciao ciao ragazzi quali sarà il vostro prossimo lavoro ancora non abbiamo non abbiamo idea infatti ne vogliamo parlare questa sera perché ancora non ne abbiamo idea dobbiamo calcolare delle cose dobbiamo vedere un po pure i tempi lavorativi che abbiamo perché quest'anno è stato un rincorrersi per pubblicare e shining ogni mese è stato veramente unico per me è stato un incubo quest'anno però io lo faccio sempre volentieri perché piace leggere steven king proprio lo adoro come ambientazione tutto il resto però per ora pure filippo non abbiamo molta idea vero non abbiamo ancora eh no quest'anno è stato un po così diciamo quindi quindi siamo arrivati proprio di corsa alla fine e non sappiamo ancora cosa fare ma ci sono vari aspetti da calcolare prima di magari verrà fuori in questa in questa serata verrà fuori l'idea qualche idea fantastica per andare avanti certo certo maria angela casano o finalmente maria angela dalla sicilia ciao amici lei è l'autrice emergente della madre vi consiglio di andarla a vedere se puoi metti il link anche così la gente si va là ci clicca e se lo ascolta perché quello è quello di cui parlavo prima non è un un horror inteso come tale non c'è un mostro ma c'è un horror della realtà ossia una storia purtroppo molto molto reale che si verifica ogni giorno anche in italia purtroppo e oggi proprio si è verificata la storia a roma tra le altre cose vicino piazza mazzini di un tentato stupro perciò andatela a vedere e lei è bravissima veramente anche lei è una bellissima penna andato bene abbiamo mary jacomino stefano severi ah vedi mary jacomino che fa i complimenti a stefano severi brava mary jacomino saluta stefano severi dal libano adesso in libano in libano complimenti per i racconti interpretati meravigliosemente da lorenzo e filippo grazie 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 mary prego vai tu allora un goccio d'acqua mi alzo e bevo un goccio d'acqua ti lascio così tra un attimo facciamo il cambio perché il birrino è finito allora siamo rimasti da soli quindi andiamo avanti a leggere un po di commenti speriamo che lorenzo non muoia con tutta questa tosse k i magnifici grazie k grazie troppo buono o buona buon mettiamo con buon con l'asterisco come va di moda adesso marco affrontiamo il pagliaccio nella stanza eh sì assolutamente allora eh valerio ci dice che siamo stati fantastici per shining lorenzo è stato sicuramente bravissimo perché se l'hai letto tutto io ho fatto a dire il vero eh un contributo di musica è un po' più limitato rispetto al al passato quindi io ho fatto per it non lo so vi invito vi invito vabbè comunque questo è importante dirlo ci dice ma è pensato di creare un corso per fare gli audiolibri un saluto personalmente non penso di dover o poter insegnare qualcosa qualcuno in merito di fare gli audiolibri sicuramente posso posso insegnarvi come si lavora sotto scadenza questo posso posso dirvelo posso dare quella che è la mia esperienza di questi quattro anni però grazie grazie valerio sicuramente se tu ci reputi all'altezza è un ottimo è un grande attestato di stima grazie mille veramente valerio grande o a perché c'è in live l'oste che sarà l'osteria l'osteria il nostro oste me lo ricordo quando gli cancellarono il signore di anelli è bella sbatta bella sbatta come sono successe tante cose simili su su youtube con molti contenuti perché poi c'è stata l'onda del del copyright poi c'è stata l'onda della demonetizzazione di altri video di altri autori noi come autori di audiolibri non monetizzati siamo sempre rimasti un po fuori da questa cosa però ecco è comunque una cosa a cui fare molta molta attenzione ma tipo comprare sotto banca i racconti di king è possibile di racconti i racconti i racconti ci sono tutti i racconti sono tutti disponibili youtube stanno lana e potresti potresti anzi alcuni magari non li trovate più perché sono stati raccolti per esempio la nebbia è stata raccolta in un unico unico audiolibro esatto c'è quindi alcuni audiolibri più lunghi che erano stati frammentati in più parti sono stati raccolti in in un in volume unici potresti leggere doctor sleep se non erro questo ce lo chiede lina vai avanti tu che commenti perché non so non si si vado dr sleep in teoria avrebbe anche un suo una sua ragione visto che il seguito di shine esatto il libro però è molto debole a me personalmente non non mi è piaciuto il film pure segue molto il ritmo di del libro e no sinceramente il nuovo king gli ultimi king non non mi piacciono io sempre un forse un conservatore da sto punto di vista perciò i primi king hanno tutto un altro smalto proprio un'altra rivisitazione uno studio dei personaggi diverso diverso negli ultimi king c'è troppa introspezione è quasi come se sta già dicendo addio e questo succede da un po di anni tra le altre cose perciò doctor sleep ha un suo motivo di essere se dovessimo fare doctor sleep anche se già c'è su youtube se non sbaglio poi doctor sleep però a me proprio no non mi è piaciuto come 22 11 63 tutti dicono bellissimo a me non so no direi proprio di no poi andrea andreani ho mai visto la casa di sembraini cazzo ci sono cresciuto con la casa di sembraini assolutamente molti anni fa molti anni fa la casa di sembraini è un cult buona prima di che anno è il primo di che anno è già che non ricordo lo dico guarda mi sembra 84 rimane di marmo stasera siamo un po moschetti sai siamo un po moschetti l'altra volta è dell 81 il film ma sì ma perché ormai siamo arrivati a questa età l'età della consapevolezza tutti quegli scherzi non si stanno più alternare i capitoli di it sul tubo come dice frank si è un'idea è un'idea che abbiamo avuto però il rischio c'è sempre perché i tre i tre pubblicati come anteprima sono gli unici sono gli unici tre capitoli pubblicati sono i primi tre quindi ragazzi scusate ma diciamo la verità it in realtà è il primo capitolo cioè madonna è un racconto è un racconto di 40 minuti it sta tutto là c'è tutto il resto il ragno finale la diga dei berrand è bellissimo ma tutti conoscono it del primo capitolo appunto il il pagliaccio nella fogna tutti conoscono quello it è tutto là il resto è bellissimo è un capolavoro anche se ci stanno delle parti diciamo allungate proprio in un modo eccessivo per far sì che arrivi un tomo da vendere all'epoca a 30 mila lire ma it è tutto là c'è poco mi allontano un attimo ti lascio un attimo la palla benissimo benissimo fata pasticcio consiglio ovviamente il cofanetto ecco il cofanetto era quello che avevamo fatto l'altro anno con i gadget e io anche lo consiglio perché veramente quello l'abbiamo rimasterizzato ed è mi sono veramente orgoglioso di quel lavoro non è fastidioso sto copyright va boicottato no direi proprio di no daniel bertorello va bene sia la ho il cofanetto lunga vita al canale custodisco margherita borini il mio cofanetto molto gelosamente sto riascontrando per la terza volta complimenti anche per shining è stato fantastico grazie mille margherita veramente grazie grazie mille poi che abbiamo aspetta che quasi andato troppo avanti ok ci chiede pierfrancesco di prendere in considerazione l'idea o se abbiamo mai preso in considerazione l'idea di leggere cose preziose io per esempio non l'ho mai letto cose preziose però l'abbiamo ma non abbiamo mai parlato di di farlo effettivamente le cose preziose pure è un titolo papabile molto papabile comunque vediamo ancora non abbiamo deciso come ho detto perciò vediamo un po come come si svolge comunque direi di fare una pausa scusate io lo dico sempre anche nei messaggi su facebook o su youtube alcuni di voi non ricevono risposta quando mandano un messaggio o quando fanno un commento su youtube non è per maleducazione veramente è semplicemente che ogni giorno arrivano circa 4 500 messaggi sono tantissimi vi dico e io cerco di rispondere molte volte all'inizio rispondevo sempre perché il canale era ancora in crescita perciò c'erano poche persone e si poteva fare adesso diventa difficile rispondere veramente a tutti veramente tantissimo perché nonostante siano due mi sembra tremila visualizzazioni al giorno ci sono circa 3 400 messaggi non erano 500 ma 3 400 al giorno ne arrivano ed è impossibile che dovrei fare questo tutto il giorno e non posso comunque questo era per dire comunque noi abbiamo fatto questa live per un motivo vero filippo è il motivo ve li faccio vedere i motivi sono sono qua se riesco a prenderli che oggi sono le mani incastrate sono questi qua non so se si vede vedete 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 che cosa abbiamo preparato ogni anno abbiamo una bellissima cartolina dalla over look e dietro nascondendo una parte fondamentale come potete vedere anche con fa di qua anche col franco bollo c'è anche un messaggio personalizzato di jack torrens wendy torrens e danny torrens questa è la cartolina che abbiamo pensato che è plastificata questa è molto bella la collezione del in in ricordo di shining e poi abbiamo pensato di farvi anche un'altra sorpresa con il cofanetto di quest'anno e tornando a quella domanda che abbiamo ricevuto all'inizio che cosa c'è nel cofanetto papà 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 vedete che c'è guardate che c'è guardate che c'è mia o mia o mia o mia ok in il cofanetto di quest'anno abbiamo lasciato una sorpresa ecco e la sorpresa dura 15 ore e mezza e in più ci sono questi due gadget perciò se volete farvi un regalo per natale o volete fare un regalo per natale io ve lo consiglio anche perché i cofanetti dell'altro anno non erano niente male come il regalo perciò pensateci se avete curiosità ci contattate su facebook o scrivendo a audiolibro italiano chiocciolagmail.com e noi vi daremo tutte le informazioni intanto questi due gadget ovviamente per chi ci le chiede eccoli qua sono qua ok questo è il motivo per cui abbiamo fatto la live per festeggiare la fine in shining e come per ogni per ogni fine libro noi facciamo questa live per e ci organizziamo anche per dei regalini così dei dei gadget che potete trovare nel cofanetto 2021 prego filippo ormai è diventato una serialità quella dei dei cofanetti praticamente ma è sì però è un modo effettivamente effettivamente mi ricordo che ci fu qualcuno che mi chiese mi raccomando mi raccomando ti chiedi chiedi che voglio il cofanetto da regalare alla mia amorosa voglio il cofanetto regalare al mio cugino assolutamente quindi sicuramente pezzi metteri e l'avevo già letto in altre occasioni è il mio libro preferito di king non che li abbia letti tutti però è veramente veramente bello per diverse ragioni è stato già era già stato pubblicato una piccola anteprima perché erano state pubblicate due o tre parti e quindi ci sembrava anche giusto andare a una conclusione di fatto poi voi vedete adesso il cofanetto ma dovete pensare a lorenzo che mi chiama a febbraio dice che famo anno prossimo perché voi lo vedete così morente con la tosse ma in realtà a lui è su è super da questo punto di vita veramente fantastico per organizzato super super lungimirata super tutto quindi quindi voi vedete adesso il il cofanetto ma pensate che comunque ci sono mesi e mesi 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 e mesi di lavoro però ci sembrava giusto appunto arrivare a una a una sintesi con questo quindi arriveranno due cartoline una dal over look hotel e una dalla ladlo esattamente l'altro è uno sticker in realtà è un adesivo però è molto carino è un'idea che abbiamo avuto così tanto per comunque saluta ci saluta allora avido alchimista che ti fa i complimenti grazie e e daniele sottolinea angelo paresi un grande assolutamente un grande perché angelo presentato è anche poeta io ce l'ho tra gli amici di facebook che vedo spessissimo che scrive queste queste poesie o anche un'altra scritta con haiku una breve composizione poetica molto molto bello molto 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 schillato ciao tutti salutano avido alchimista risalutiamo anche noi ciao avido alchimista a ok l'ale ha risolto il dubbio di qualche qualche minuto fa cosa ormai mezz'ora fa l'ale come ale ma con una l davanti a come ok come lice che era la segretaria del liceo dove andava si chiamava lice la lice però non era alice era lì stessa cosa va bene di chi si parla per la tosse latte caldo con miele e un cielo a sant'antonio grazie valentina che mi ci vuole è una settimana che sto così sono stato a pezzi veramente poi io non è che mi tengo di lavoro circa 12 ore al giorno perciò che tocca fare per campare tra poco devo andare ma passo a salutare da rose a salutare da rosi che vuol dire chi è rosi non dimenticate i like massimo chi se ne frega dei like su facebook sono fondamentali i like su youtube no sinceramente no no non siete troppo seri anzi interessante quello che avete detto perché ad esempio non so tutto quello che c'è dietro a youtube sapessi che c'è purtroppo mamma mia sapessi quanto non siamo seri michela in realtà adesso questo attestato di stima è assolutamente superfluo valentina bufano fuma ma beccato che fumo oh te sì purtroppo sì valentina sì se ci sono minorenni alle 22 27 non devono vedere la live vanno a dormire i minorenni a quest'ora mi raccomando sirio de giannerio ti fai i cannoni e poi sì noi non sappiamo cosa ci sia detto che le sigarette effettivamente potrebbe anche esserci del tabacco effettivamente del tabacco semplicissimo no no eccolo prima mi becca che fuma valentina e mi cazzia adesso vedete fai i cannoni e poi fu no dai però via via il moralismo da questo canale per favore dai esatto mary jacomino fai complimenti a valentina simona bufano adoro le tue storie giusto bellissime sinceramente tre vite l'ho trovato bellissimo è particolare si incastra però è scritto veramente bene tra cinque minuti siamo live passavo maggiore l'onere carissimo avvito alchimista ok un saluto buona live di nuovo alfredo pagnotta e poi sono qui vuole far battere no non puoi batterci mi dispiace alfredo ogni tanto lo ci sentiamo con alfredo perché ovviamente questo 7 il dolorante lo farà di lo farò diventare lorenzo il dolorante perché ho fatto un po di modifiche così però ci facciamo delle chiacchierate con alfredo bellissime sul cinema proprio lui è un personaggio un personaggio da conoscere veramente da conoscere scroccarello stima grazie mille grazie grazie mille bro fist bro fist poi valentina ci consiglia miseri miseri c'hai ragione valentina bravissima soltanto che miseri c'è il personaggio femminile principale io non c'ho la voce cioè le faccio le voci da donna però cerco di essere un po più delicata capito un po così e non non è il personaggio che si addice infatti quando dicevo lo studio o la scelta non deve essere casuale di oggi faccio questo faccio quell'altro no c'è pure uno studio per i suoni i potenziali suoni tutti i piani musicali noi siamo un po così un po precisetti da questo punto di vista ai minorenni live vendata poi abbiamo vai tu emanuele truccolò stavo facendo la live vendata a non sono minorenni ormai da tipo due anni no non lo sei più sta tranquillo allora emanuele ci chiede se per favore possiamo leggere i langolieri potrebbe sempre potrebbe sempre essere uno di quei titoli papabili perché voglio dire rotta la barriera quella quella cinema però quella è una novella rotta la barriera di si può fare si può fare un po qualsiasi cosa il problema dei langolieri scusa se intervengo emanuele io ci ho pensato a fare i langolieri il problema dei langolieri è il rumore dei langolieri non ho la più pallida idea di cosa metterci nel caso capito ma facciamo il sound design dai qual è il problema facciamo come fanno al cinema che prendono un sedano lo spezzano davanti a un microfono tipo i critters vai ok poi ci dice ma non parlate male di it come si fa non parlare male di quel merdoso di penny wise scusate le dieci sono passate si può dire merdoso dai michela ci dice che la metà delle visualizzazioni di it era la mia infatti venivano tutte dal paese di michela metà delle visualizzazioni con i geotag abbiamo visto questa cosa esattamente allora 22 11 63 a davide vincenzi piacerebbe molto abbiamo visto che a lorenzo non piacerebbe e sinceramente credo che se non piace a lorenzo sarebbe veramente difficile realizzarlo ecco ragazzi fidatevi guardate è veramente pesante in confronto ai primi steven è veramente pesante veramente veramente pesante il gioco di gerald di gerald questo è una è un'opera che non conosco l'ho già sentito nominare perché nelle chat viene sempre fuori ma la pure c'è la donna protagonista allora niente niente non si può fare no poi poi i langolieri vedi tutta la gente si si ti prego te lo facciamo noi il suono dei langolieri dai vediamo vediamo è un'idea anche se poi quello dura mi sembra sei ore tipo la nebbia perciò non è un libro è una novella perché fa parte di quattro dopo mezzanotte allora arrivano ancora comunque una serie di altri apprezzamenti per la nebbia un buonasera da tommaso le notti di salem altra cosa che era stata considerata sempre da tommaso però questo tommaso gavagnin tommaso grandissimo non bella che ha ormai mezz'ora fa perché comunque siamo siamo indietro come mezz'ora fa eh sì beh al 9 56 sono le 22 abbiamo siamo messi a cazzeggiare come al solito e a te dicevi gli asci siamo persi stasera stasera filippo partiamo bene facciamo una roba fatta tutta facciamo un'ora e mezza tra una mezz'oretta già chiudiamo eh ragazzi devo andare a letto sicuramente io devo lavorare adesso devo lavorare tra l'altro per alfredo pagnotta tra le altre cose no non lavorare per alfredo pagnotta eh sì 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 ciao filippo damiano eh che immagino non sia quel damiano lì ma sia no damiano stoppa ciao filippo e lorenzo siete veramente i numeri uni sull'ombra dello scorpione sono 59 ore non immagino quanto possa essere lungo a fare tutta la torre nera in realtà aspetta guarda te lo dico perché me l'ero segnato allora la torre nera viene viene te lo dico viene 240 ore all'incirca dieci giorni dieci giorni 240 ore scusa hai detto 240 ore almeno questo è all'incirca sono quattro it virgola otto sono praticamente esattamente ma tu devi sapere damiano magari non so se tu sei nuovo della della famiglia il nome non me lo ricordo sinceramente però eh tu pensa che quando ho conosciuto lorenzo la sua sfida era leggere un po alla volta tutto l'ultimo cavaliere tutto l'ultimo questo era il suo obiettivo quindi pensa come le cose cambiano e cambiano negli anni tutta la torre nera un pe un po troppo come si direbbe dalle mie parti mi pare a 90 anni l'ultimo cavaliere sotto la torre con la voce mia a 90 anni un po da Firenze dalla nostra da Asuka la nostra allora ti consiglio a Airi Asuka ti consiglio ad ascoltare il racconto di giovedì di Paola Cavallini perché c'è una citazione a un lampredotto ecco ecco giusto per dire The Dome è quel libro anche quello bello bello grosso bello grosso anche quello bello grosso preso da un'idea già esistente quella effettivamente ci hanno fatto un film dell'agio dei dannati una serie tv che poi bella la prima la prima stagione le altre due a puttane come al solito poi Dispiration il mio favorito di King io non conosco tutte queste cose Lorenzo come faccio eh come fai eh te le leggi non te le leggo io non te le leggo io no ma come non me le legge un bel libro sì questo questo non è male Dispiration però ci sono titoli migliori eh occhio ci sono titoli migliori ecco non invertitevi mai i ruoli grazie la volta che ci abbiamo provato è andata malissimo c'era Lorenzo che faceva piru 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 e io che facevo allora entrò all'interno della stanza della stanza brutto con una piadina in mano e all'interno del chiosco chiese una piadina con lo squacquerone il problema è che poi c'era un mostro dentro no c'era un mostro con i tentacoli non ci inventire non ci inventiremo i miei ruoli sarebbe impossibile per me fare come lui lui sa suonare quindi potrebbe potenzialmente uccidermi un giorno e prendere anche il mio ruolo scusatemi tantissimo per la no non ti scusiamo scusate non ti scusiamo avido alchimista la voce di king per eccellenza sei troppo gentile grazie mille però ho visto che anche altri canali sono usciti fuori attenzione scusa stavo legge del nick di caprosauro il successivo bellissimo caprosauro scusa eccolo qua caprosauro ve l'ho messo in primo piano ok omar omar dovevo rigere come gioco e all'inizio della diretta cazzo devo legge le cuffie dentro le vecchie mamma mia le 10 e mezza pc poi top grazie omar poi abbiamo veronese monica anch'io faccio così tra lorenzi e libri in pillole è un casino esatto anche libri in pillole lui bravissimo proprio la voce perfetta per l'ho craft la voce perfetta consigliatissimo daniele bertorello è di genova piacere salutami tanto la carissima gine noa valentina bufano tanto che scrive una scemenza ma neanche troppo credo che tutti gli ascoltatori fossero non vedenti come evidentemente non tutti ma quanti voi lo sono valentina no ormai l'audiolibro secondo me queste tutte queste persone sono persone che o vanno a correre nel parco o lavorano tranquillamente da sole oppure stanno ore e ore in macchina scusa un attimo che mi si è spinta una luce qua infatti sei diventato un pixel gigante praticamente attenzione qua sarta no comunque intanto per rispondere a valentina sì sì certo certo sicuramente una una certa quantità di persone ci hanno che ci hanno scritto che sono rivolte noi ci hanno rivelato comunque di essere non vedenti e mi hai messo in piccolissimo ah si può si può fare questa cosa qua ah ok quindi si vede anche bene 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 non solo il nostro faccione molto da vicino quindi molte di molte persone effettivamente abbiamo scoperto che sono che sono non vedenti e ed è molto bello perché comunque alcune di queste persone le abbiamo abbiamo potuto parlare con loro e ci hanno detto che effettivamente l'esperienza dell'audiolibro fatto anche con col piano sonoro oltre che con questa narrazione eccomi qua di nuovo scusate che lorenzo fa hanno potuto dare loro una una sensazione molto più inclusiva di cosa di quello che poteva essere un un audiolibro normale o comunque di qualunque altra cosa che essendo non vedenti non non si poteva apprezzare con il senso della vista quindi diverse persone a dire la verità diverse persone in questi anni caprosauro quello che piace a senza la tua voce non riuscirei a dormire vedi grazie un grandissimo complimento magnifici voi fate un lavoro sbatta fantastica spen sempre continuamente si ci mettiamo tantissimo tantissimo lavoro dietro per quello che pubblichiamo poco nel senso che se uno registrasse solo un audiolibro voce sarebbe molto più semplice invece dietro per tutto un lavoro una coordinamento infinito poi abbiamo maria carmela rocco siete bravi e anche belli no dai che mi esalto maria carmela grazie carmela grazie ma in questo momento non so magari metti a fuoco meglio il video perché siamo distrutti avvicinati un pochettino si sono un po distrutti un po distrutti io tra tutti vi chiamo la gilda dell'audiolibro ah mazza il bel nome la gilda dell'audiolibro molto elegante no poi ci scrive anche questo rincoglionito non so chi sia a filippo t casanova il piccolo principe entoni piemontese anche lui un autore emergente un regista tra le altre cose per entoni piemontese abbiamo fatto anche l'esperimento sia lui ci ha dato la la sceneggiatura perciò soltanto diciamo i dialoghi e noi abbiamo cercato di fare il film dell'audiolibro è strano dirlo così però lo trovate su youtube milano violenta ciao entoni piemontese ciao entoni grandissimo andatelo a ascoltare c'è ancora scusa lorenzo ancora milano violenta abbiamo dovuto uno l'abbiamo tolto si l'altro c'è ancora l'altro c'è ancora luigi del santo altro autore emergente grandissimo un grandissimo successo avuto luigi del santo con l'orrore di montecoppola veramente dei numeri straordinari già è arrivato a 3.000 visualizzazioni nemmeno una settimana veramente stile love craft un po tra love craft danwich e gerusalemme slot di king veramente brava ciao luigi benvenuto ciao luigi buonasera ciao vai continuate con black mamba serve anche cosa preziosa che non è male l'ombra dello scorpione si a questo questo l'avamo visto effettivamente o plazzerini scusate che aveva grandissimo il vincitore del concorso il vincitore del concorso la tua audizione mi ha mi ha fatto pisciare veramente da ridere comunque siamo in ritardo di 42 minuti sui commenti andiamo un pochino un pochino più rapidi allora ci saluta saverio rossi continuate così siete bravissimi grazie saverio grazie di cuore veramente poi ci saluta francesco piana da praga buonasera maria angela intanto siamo maria angela da praga ci saluta oh francesco caprosauro ti stai a fare lo spa lo spipers penso sia sia per me questo per tutti e due mi sa filippo assomigli vagamente a cao a cano rius magari magari cavolo lui è un figo oltre che a genero cosa cazzo stai dicendo ma cosa cazzo è un figo ha fatto un sacco di film fighissime poi lui stesso è un boss dai è un boss è un boss è un boss hanno visto la casa già ho risposto sì anche giulia pedronelli è molto brava molto molto brava che bello vedervi dal vivo siete simpaticissimi e bellissimi simpaticissimi no belli sicuramente sì poi il prossimo che vi mando è ambientato a roma in periferia al quartaggio e constato che sei di roma potrebbe uscire qualcosa di interessante dovrei registrare in plenair grazie daniele grandissimo daniele anzalone anche lui un autore nostro veramente andatevi ad ascoltare tutti perché sono uno più bravo dell'altro non sapete non immaginate nemmeno quanto quanto talento c'è in giro che magari non non è che sprecato però è è nascosto e l'unico problema è tirarlo fuori purtroppo è così poi o diego flavoni cavolo ha scritto quel quel racconto è ancora il record diego flavoni ancora il portachiavi nero ecco sì mi ricordo bene ancora il record ancora il record di eguzzo però prima volevo leggere filippo il suono dei crackers mentre jack è rinchiuso e smatta è perfetto sublime esatto la parte di shiny che è bellissimo poi luca piasini grazie grazie a te complimenti per i vostri progetti li ho ascoltati li ascolto sempre molto volentieri è sempre bellissimo francesca rocchi ha ascoltato il libro di brand sanderson capirai la trilogia comunque un libretto un po così giulia faccio giulia faccio buonasera a tutti giulia faccio che ci scrive sempre che diciamo ci sostiene sempre con con tanto amore veramente grazie mille giulia è stato veramente un piacere grazie grazie mille gigi con it abbiamo fatto sognare grazie per i complimenti tina volevo farvi complimenti per il nuovo cofanetto che sorpresione inaspettata non vedo ora che mi arrivi è un piacere però ancora dobbiamo iniziare a spedirli credo che in settimane inizieremo perciò per chi vuole ci può sempre contattare per chi vuole un lavoro può spedire può portare a ma noi no ma non è questa che volevi dire sicuramente poi lorenzo tranquillo la tua è l'unica voce che si sente anche dall'auricolare con l'aspirapolvere acceso addirittura alfredo pagnotta la torre nera è fighissimo come l'ha narrato la voce il ritmo prima erano spettacolari è un po lento però così stefano severi come angelo parisi ci dice alessandro mazzaro grazie bravi così continuate ad ascoltarli d'accordissimo d'accordissimo faremo altri racconti brevi sì credo di sì se non sono finiti no ce ne stanno ancora anche di belli molto molto vai continua tu da allora allora sto aspettando il proseguimento della scala di marcello colombo proseguimento vabbè dai non ce l'ha quello il proseguimento finisce così è come dire come come certi film al cinema finito non c'è più niente e la trottola cosa succede con quella trottola pollon combina guai tra poco tocca lasciarvi buon proseguimento a tutti grazie pollon ormai sono passate sei ore devono scritto questo commento ci avrà già lasciato se va bene però grazie di essere stata con noi eh pollon stata o o stato perché non so magari pollon è un lui potrebbe anche essere bello della pollon era pollon combina guai un cartone animato se non sbaglio sì esatto cosa fare per ascoltare eh it caprosauro eh mi stai ammazzando con questo nickname scrivici 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 su facebook o su eh instagram giulia faccio l'interpretazione di jack nell'ultimo capitolo di shining mi ha molto impressionato perché non mi aspettavo tanta fuori nel doppiaggio ho trovato tutto assolutamente perfetto e perturbante eh intanto mh lorenzo sicuramente ti ringrazierà devo dirvi che la mia prima esperienza con shining e lorenzo ce l'ho ancora su salvato sul mio drive eh un ridoppiaggio della scena del film l'ho messo esatto la scena del film e quella fu una delle prime cose che ho visto di di lorenzo oltre altre due cose che vi ribellerò solo sotto tortura che ho ancora salvato da qualche parte addirittura chissà che è è uno e il trailer di un film molto famosa e uno è una scena dove tu vai a doppiare Ewan McGregor in un film però non voglio dire niente perché esatto esatto la scena dove canta ok vado un po veloce no no aspetta non vado veloce canta 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 no vai 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 con te allora Giulia faccio mi fa piacere K K dice d'accordo con te Giulia in che senso ah d'accordo con te Giulia faccio ok Valentina ancora Hellraiser è scritto benissimo e corto leggete quando uscissi Ben King disse l'autore di questo nome Cliff Barker è uno scrittore migliore di lui Cliff Barker consigliato moltissime volte Cliff Barker tra l'altro Clive poi si dice Clive Barker Clive Barker Clive Barker oh my god grazie molte per le belle parole la buona madre mi ero sbagliato scusate io ho detto la madre è il racconto di Mariangela Casano che vi consiglio sempre di andare a ascoltare se King vi ascoltasse si iscriverebbe al canale troppo gentile Michela veramente decimo taglia pietra brava vedi questi queste persone a me piacciono queste che partecipano che vengono a noi decimo taglia pietra per esempio è un altro autore emergente è un altro che ci ha commissionato il suo lavoro gli abbiamo fatto anche un trailer veramente buonasera a te decimo nonostante siamo in 40 minuti in ritardo poi entro la fine dell'anno almeno tre libri ops esattamente entro la fine dell'anno avete mai ripreso in considerazione gli iscritti di Clive Barker a voglia e stai sicuro che un giorno li faremo plazzerini ciao ragazzi è bello vedervi e sentirvi da vivo voi sapete cosa desiderò un chilometro e 6 bravissimo Paolo bravissimo le notti di Salem o cose preziose cose preziose ma farete anche dottor slip per me il massimo serve una vostra interpretazione di metro 2033 di Dmitri Glukowski che era il videogioco ci hanno fatto pure vai continuate che io non c'ho più salima in bocca ok k buona 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 è vero quello che dici sugli ultimi di kong steven kong se non è un po peloso ma l'istituto mi è piaciuto molto di cristina k intanto parla con camilla camilla ciao siete er meglio siamo sicuri che sia così entri piemontese ma lo vedete contattateci su facebook scrivici su facebook entri spiegiamo tutto anche perché è molto semplice un regalo di natale camilla ciao lorenzo ti ascolto con interesse volevo chiedere come scegli gli autori di cui ritieni ritieni di fare degli audiolibri ma ok questa è una domanda un po per tutti e due partito inizio io allora non c'è una una cerni cioè in realtà c'è un filtro all'inizio noi quando veniamo contattati ci facciamo spedire l'estratto di dell'audiolibro che si vuole realizzare se l'estratto ha una qualità pessima e ora non senza fare nomi ovviamente ci sono stati degli autori che ci hanno contattato però gli iscritti non erano presentabili nel senso avrei dovuto correggerli non tanto grammaticalmente per quelli sono refusi ma proprio come struttura perciò in quel caso mi si dice cerca di migliorarlo prima di pubblicarlo perché altrimenti ti esponi a figuracce perciò un filtro c'è però è solo quello e uno lo fa semplicemente per il bene della persona che ti contatta altrimenti non c'è nessun tipo di filtro noi più delle volte accettiamo tutto ma perché perché è scritto bene e io non lo dico per fare ruffiano ma proprio perché il più delle volte ricevamo degli iscritti che meriterebbero di essere pubblicati io lo dico senza senza nessun problema tra l'altro tra l'altro stefano anche senza limiti di genere quindi si è spaziato in questi questi anni naturalmente c'è una attrattiva maggiore per quello che riguarda il genere horror comunque diventano horror ad un certo punto comunque diventano un po splatter ad un certo punto ma proprio perché essendo il canale nato come canale a forte forte tematica oddio no così vicino sono bruttissimo grazie 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 fortissimo tema king naturalmente preferisci così vuoi preferisci così guarda preferisco guarda così preferisco così come in quella puntata di black mirror dove lui diventa il dove lui trasforma le persone in mi ricordo come si chiama in cookie quindi non c'è neanche non c'è un limite da questo punto non c'è una selezione da questo punto naturalmente visto che il povero lorenzo li deve leggere devono essere scritti in italiano e non sempre purtroppo c'è una una forma al di là di qualunque altro giudizio sulla sulla storia non c'è una forma adatta adatto ma noi non è che li blocchiamo perché rovinerebbero il canale perché la gente si espone a figuracce mi ricordo c'erano delle persone che mi contattarono e mi mandarono il pezzo di pennywise di it e vogliono dire me lo posso che dice lo pubblico lo pubblico e io dico no non è pubblicabile ti esponi solo a figuracce e secondo me è giusto che sia così poi ognuno fa quello che vuole valentina semuna ci saluta in canto ciao buon natale anche a te un bacio tra un po sarà veramente ora di dire se non ci rivediamo buon natale capirei tra un mese e dieci giorni natale perciò 40 giorni concordo sulla ridondanza di it cose preziose non c'è sul tubo la buona madre stupenda complimenti all'autrice è veramente un bellissimo racconto il re ecco bravissimo digital ha beccato perfettamente quello che dico sempre io il re esprime meglio nei racconti brevi un po' come nel cinema lo spessore di intensità massima spesso viene esaltata nei corti rispetto ai lungometraggi perfetto digital sono pienamente d'accordo la grandezza di king sta nello sviluppare i personaggi cioè come sviluppa king i personaggi non ho mai letto da nessun altra parte forse se forse lo stesso love craft ma king è veramente una spanna sopra il problema è che è che se uno vede i primi libri di king questo lo stavo dicendo a alfredo bagnotta l'altro giorno per telefono se uno vede i primi libri di king sono dei libricini così di 200 250 pagine dopo a metà gli anni 80 no fosse inizio anni 80 forse gli hanno detto ma se tu lo fai tre volte tanto lo vendiamo a tre volte tanto e dalla non ha più smesso di fare dei tomi che potrebbero ridursi veramente alla metà lo stesso it è una roba che ha delle parti veramente eccessi eccessivamente prolisse eccessivamente sviluppate ma proprio per per fare volume però già lì eravamo metà degli anni 80 mi sei sì sì ok vado vado avanti un po rapido perché ho visto che sono le 11 che hanno ratti di messaggi delle 10 e 23 quindi ma marco un capitolo interessante la sparatoria con la banda bradley anche perché parlo parlo un po troppo lorenzo quindi devi fermarmi placca mia c'è no ma tranquillo sempre sempre un piacere allora io ho pianto leggendo pezzi metali della zona morta ma a tal proposito la zona morta lo farete non credo non credo sia in programma no anche se a me piace molto uno dei libri di king più belli secondo me io ho pianto la zona morta mamma mia me lo ricordo ancora che era il 92 mamma mia 19 quanti anni avevo io nel 92 invece secondo te mai a cagare un'idea nella mente di dio come si dice allora stefano anzi la scusa pasquale ma sarà tutti i ragazzi complimenti per quello che fate siete bravissimi grazie pasquale grazie per fare un abbraccio significa tanto per noi ti propongo un romanzo e ti piace ne faresti un audiolibro con la tosse chiaramente stefano te lo chiede se parla di un fumatore che c'è al mal di gola si volentieri no a parte gli scherzi personaggio pronto è il sound giusto a parte gli scherzi scrivici su audiolibro italiano gmail.com e se vuoi fare un estratto se ne parla tutto il romanzo non so quanto di convenga però tu contattaci perché un estratto secondo me si può fare tranquillamente e consigliamo sempre di andare per estratti proprio per il fatto che diventa diventa più più facile più immediato realizzare naturalmente si realizza anche tutto un romanzo però diventa più più facile più immediato e poi può essere utilizzato sappiamo che sono stati utilizzati gli estratti anche come book trailer anzi dopo da lì si fa un'altra un'altra scelta ovvero si prendono dei tanti piccoli estratti si fa il book trailer come avevamo fatto per porca boia perché vuoto di memoria vuoto di memoria torino aspetta 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 vabbè sì in quel caso adesso mi viene in mente hanno fatto tanti piccoli pezzi di libro oppure perché può essere utilizzato come demo per la casa editrice quindi si dice ma manda città materiale ascoltate quello oppure per le presentazioni dei libri per esempio io ho suggerito una mia amica che ha pubblicato con noi un estratto di utilizzare l'estratto alle presentazioni dei libri perché diventano quei cinque minuti che magari ti rendono anche un pochino più dinamico l'evento presentazione del libro quindi scrivici l'indirizzo l'ho scritto nella chat poco fa esatto vai avanti pure andiamo avanti un pochino scusate ragazzi schippo un pochino di cose perché ad alcune cose abbiamo poi già risposto nel frattempo ci saluta marcello close wave ciao ciao buonasera pasquale il raga il progetto torre nera è chiuso al momento non improbabile che si vada avanti oltre l'ultimo cavaliere anche perché non sono tutti belli libri giusto lorenzo confermo io non li ho letti non ho letto gli altri ho solo seguito l'ultimo cavaliere con cui era luigi traverso traverso luigi traverso ciao luigi traverso da torino che con noi ha fatto quel bellissimo racconto sulla stazione porta susa se mi sta venendo in mente bellissimo bellissimo e poi aveva fatto il book trailer del suo libro dove c'era la scena con la zingara la scena del fiume che si è bellissimo bellissimo però che gli abbia portato tanta fortuna decimo dagli a pietra vuol finanziarci l'ombra dello scorpione il primo grande sborso sarebbe chiedere a chi detiene i diritti di farcelo diciamo pubblicare da qualche parte per poi diciamo se no diventa 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 una cosa che facciamo per voi di fatto il pasto nudo non lo conosco scusa paolo intanto buonasera benvenuto tra noi tu lo conosci il pasto il pasto nudo lo conosci ho visto il film di gronenberg ha visto non hai visto tutto e visto allora buonasera c'era in antera il piccolo dio verde dell'agonia il piccolo dio verde dell'agonia è un racconto di king si è carino non è che sia eccezionale dai diciassettesimo scusa paolo pesare paolo pesare di ha scritto una stronzata incredibile che mi ha fatto troppo ridere però un loid però valentino è marchigiano non è non è romagnolo è attenzione però mi ha fatto ridere ho capito dai loid avanti fammi una piadina un piadino con birretto la piadina da quelle parti e vabbè preferisco non non aprire un dissing allora ammetti sono d'accordo tu hai il king più cubo di tutti revival i quattro racconti di notte buia niente stelle sì che scusate ti dicevi marco alle ori allora fuma uno stupino lo stato seno è di roma forse marco è forse arrivo subito è scusate non sto seguendo la live volevo solo ringraziare norenzo per i suoi dove mi hanno tenuto i compagni ed emozionato spesso con i racconti del maestro si mette in buona continuazione dato un piacere sul metro duemilatrentatré hanno fatto il videogame il libro comunque spettacolare un horror con atmosfera catastrofica ambientata di immensa metri di mosca non ci ho giocato però il libro non l'ho letto però dovrebbe essere niente male eccola qua vir siamo un po in ritardo scusi buonasera a tutti ciao ragazzi vi vedo informissima non arriveremo mai dopo la mezzanotte ma sicuramente se arrivassimo a mezzanotte avremmo i messaggi di ieri da leggere quindi sarebbe saremmo sicuramente in ritardo di un giorno ciao vir qua dobbiamo tornare su però mi sa che tra direi che tra un minuto chiudiamo facciamo così facciamo un saluto generale a tutti ricordiamo a tutti che se volete contattarci per qualsiasi informazione se avete un racconto nel cassetto se volete informazioni su i due gadget che abbiamo preparato per il 2021 che sono questi qua che vi faccio vedere basta scrivere una mail a audiolibro italiano chiocciola gmail.com audiolibro italiano tutto minuscolo attaccato scritto benissimo e anche se volete contattarci per estratti di audiolibri per trailer qualsiasi cosa chiedete tutte le informazioni che volete tanto uno tra me e filippo risponde sempre con questo direi che anche quest'anno come diceva quello del film vacanze natale solo semo levato dal cazzo sta live no scherzo è un piacere noi amiamo stare così in live e chiacchierare è un piacere sicuramente salutarvi tramite messaggio tramite commenti anche se molti non hanno ricevuto risposta ma questo per i per i numeri la media è stata intorno ai 70 visitatori ogni minuto perciò sono dei numeri altissimi anche i messaggi sono stati tantissimi noi non posso io non posso fare altro che ringraziarvi per tutto l'affetto per tutti i commenti positivi che ci scrivete che mi scrivete e veramente noi stiamo continuando soltanto per questo motivo soltanto perché continuate a sostenerci in qualsiasi modo grazie grazie di cuore veramente te lo dico sinceramente non sto recitando mi raccomando salve loid vai caro allora io intanto vorrei salutare tutti quanti mi dispiace per tutti coloro che hanno scritto dopo le 10 e 40 però vorrei fare vorrei fare di di tutte queste persone vorrei fare un saluto particolare a fatta pasticcio che ha scritto un sacco io con fatta pasticcio tra l'altro ho anche avuto una una telefonata perché una pasticcio è una delle delle persone che segue il canale è una persona non vedente e quindi ci siamo sentiti natale scorsa tanto lei è stata molto carina perché ci ha mandato un pensiero per natale quindi è stata anche anche particolarmente grazie grazie anche se devo dire davanti a tutti che ci ha mandato ma nonostante fossero arrivati sono arrivati io poi loretto non l'ho più visto quindi mi dispiace mi dispiace comunque vi ringrazio di averci seguito e vi ricordo tra l'altro che per i più giovani più social c'è anche instagram dove molti di voi in realtà ci stanno seguendo molti di voi ci scrivono e molti di voi vedono le stories sinceramente non non pensavamo però anche quello un altro modo per continuare a sentirci per continuare a mandarci qualche messaggio i nostri canali li avete contattateci scriveteci qualunque cosa cerchiamo di rispondere a tutti di solito è lorenzo che vi risponde perché sempre li telefono e tutto il resto se scrivete su instagram scrivete su messenger di solito riesco a rispondervi anch'io però vedo che di solito sempre già evaso lorenzo la la risposta comunque cerchiamo sempre di di salutarvi tutti anche se è solo per un saluto oppure se per realizzare qualcosa è un'altra cosa che vorrei dire a marco tasso che è l'unico a cui mi permetto di rispondere anch'io ho conosciuto lorenzo con l'art di sopravvivere questa è l'aneddoto che ci ha messo insieme esatto esatto buonanotte a tutti ragazzi buonanotte a tutti ma un bacio vediamo bene voglio bene ciao ciao filippo anche a te da lorenzo ciao carlo ciao